Siamo alla Maribert di Lecco, produttori di bottoni d'eccellenza, un prodotto modaiolo. Effettivamente i nostri bottoni sono continuamente rinnovati, ogni stagione abbiamo bisogno di presentare prodotti nuovi, materiali nuovi, chiaramente essendo in Italia e avendo come clienti i produttori italiani, dobbiamo avere un prodotto che sia all'altezza del made in Italy. Siamo nella patria della moda, lavorate anche per i grandi nomi, i grandi marchi che richiedono una qualità elevata. Il prodotto cheap in Italia è sparito, viene prodotto in paesi a basso costo. Noi grazie a Dio siamo rimasti sul mercato anche in questi anni difficili perché il nostro prodotto era comunque un prodotto medio-alto che ci ha garantito la sopravvivenza. Negli ultimi dieci anni ha cambiato il mondo? Dal punto di vista della concorrenza internazionale non subiamo tanto la concorrenza cinese piuttosto che di altri paesi a basso costo. Perché con la qualità del nostro prodotto e con la rapidità con cui facciamo i campionari è difficile che altri produttori di quei paesi riescano a stare al passo. Qual è la quota di export della Mariber? Oggi passiamo al 20% di esportazione. È un prodotto apparentemente semplicissimo eppure vedo siete stati tra i finalisti del Digital Award del 2017. Perché? L'idea mi viene un paio d'anni fa guardando una macchina fotografica Canon che avvicinata allo smartphone trasferiva le immagini per poterle poi lanciare nel web. Da lì dico ma se lo può fare la macchina fotografica perché non lo può fare un bottone? Da un anno a questa parte arriva mio figlio in azienda e con la sua venuta ha voluto dire, seguire le cose nuove tra cui questo bottone che avvicinando lo smartphone sia Android che Apple trasferisce quello che gli ha immesso. Tu puoi leggere l'istruzione di lavaggio piuttosto che il tuo campionario di camice. Un'idea che è venuta a tuo padre è quella di inserire un chip in un bottone e di rendere una cosa così apparentemente semplice un progetto innovativo e digitale. Come l'hai portata a termine? Il fatto di avere già l'idea pronta rende più facile poi la realizzazione. Tu ho rifatto il sito e poi abbiamo portato avanti questo progetto dei bottoni con l'NFC. Maribert è in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 a Cernusco Lombardone, provincia di Lecco e il nostro sito internet è www.maribert.it Il nostro Instagram è maribert-srl